buongiorno a tutti mali e brutti il giorno dopo il giorno dopo si gode ancora di più si gode ancora di più io ho sempre detto che il giorno dopo è sempre più bello quando vinci ed è più brutto quando perdi adesso ci godiamo questa vittoria mi ero un po' disabituato alle vittorie devo dire la verità mi ero un po' disabituato perché sai sono uno due due anni e mezzo praticamente quasi tre se non avessimo vinto la coppa Italia sarebbero tre anni che non vincevamo un cazzo invece invece due anni perché il terzo anno vince un trofeo quindi due anni senza vincere niente è un po pesantuccia vedere gli altri che vincono e devo dire la verità allora io intanto ringrazio gli amici interisti che mi hanno che mi hanno mandato i complimenti della partita gli amici e gli amici quelli intorno non parlo di youtuber parlo gli amici marcone mirco quelli vi ringrazio che avete mandato i complimenti per la vittoria gli amici sono un'altra cosa interisti gli amici sono un'altra cosa youtuber via 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 sono diciamo perdere va comunque grazie di complimenti mi hanno detto vittoria meritatissima gli altri tanto possesso pala ma le succo niente hanno preso quel palo lì esterno c'è l'Atalanta non ha fatto un cazzo l'Atalanta non ha fatto un cazzo mi aspettavo molto di più dell'Atalanta e ragazzi cosa vuoi dirgli a Gasperini arriva lì 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 intanto lì ci arriva cosa vuoi farle cosa cosa vuoi dirgli a Gasperini arriva lì però non vince allora non arriviamoci lì ci arrivano cercano tutti di arrivare lì poi se sfiga che non vinci a me dispiace per Gasperini a me dispiace perché lo vedevo ieri anche che parlava con l'ingegnere l'ingegnere e lo vedevo anche sorridente nonostante tutto magari qualcuno qualcuno era perché io vedere quelli della dea lì che piangevano lì in tribuna poi anche i giocatori a me mi dispiace per soprattutto per le per le per le magari per le per le squadre di cui non è che abbiamo attriti no a me dispiace vedere i giocatori e quando perde una finale ragazzi se sto male io vedere i giocatori che stanno male non penso loro quanto sta quanto stiano male appunto appunto comunque poi festeggiamenti ovviamente allegri mamma mia incazzato nero allegri è porca miseria incazzato nero è qui devo dargli ragione bravo allegri bravo allegri almeno 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 uno che tira fuori i coglioni siccome tutti stanno zitti siccome tutti stanno zitti quando riceviamo dei torti perché bisogna anche parlarne dopo quando fai la disamina della partita un fuorigioco vergognoso vergognoso anullare il secondo gol lì vergognoso vergognoso poi quel rigore suddosa ragazzi ma come non fai dare quella roba lì ma come non fai dare quel rigore lì cioè allora no se tu hai quando io parlo di malafede quando io parlo di malafede non puoi non cioè non puoi avere il varli vai anche vedere e non lo concedi allora vuol dire che lo fai apposta allora vuol dire che hai delle direttive che ti dicono di andare contro la juventus perché io la penso così perché se tu hai una telecamera per vedere anche un ipotetico errore che hai fatto è tu e tu apposta non dai quel rigore lì se c'erano i prescritti gliene davano due lì di rigore due gliene davano di rigore neanche non mi agendo se c'erano i prescritti mamma mia mamma mia e infatti allegri era incassato nero quando l'hanno espulso poi ha inveito contro una delle società non so cosa devo ancora indagare devo ancora capire cosa è successo ma poi ha nominato il nome di rocchi hai visto rocchi bravo allegri così si fa almeno uno che ha le palle è una cosa devo dire almeno agnelli almeno agnelli aveva le palle di andare contro tutti almeno invece qui ci sono tutti tutti di calabraghe di calabraghe perché agnelli lo sapete che lo smerderò fino alla fine dei giorni per come ha lasciato la juventus in quelle condizioni che ha lasciato la juventus però aveva i coglioni di andare contro tutti e a lui fregava un cazzo a lui non le fregava un cazzo comunque ritorniamo alla partita allegri che si congeda con un trofeo va bene così dai va bene è giusto così anche è giusto così che vada via con una soddisfazione tesissimo ieri l'allenatore tesissimo perché io penso che sa che va che va via lui voleva congedarsi a tutti i costi con un trofeo va bene così dai ragazzi cerchiamo di essere buoni cerchiamo di essere buoni guardate che io devo dire la verità perché io io mi ritengo uno buono con buono di cuore vedere un allenatore che va via nonostante che sia lei così a me anche dispiace perché vuol dire che ha fallito ha fallito però dall'altra parte se penso i soldi che questo qua ha preso in tutti tutti gli anni alla juventus anche i due anni che è rimasto a casa questo qui la juventus l'ha coperto di soldi l'ha coperto di soldi se fosse stato uno uno che voleva bene alla juventus non avrebbe preso tutti quei soldi là anzi li avrebbe tornati indietro e i soldi adesso vedremo l'ultimo anno che a casa vedremo se se rinuncerà o se o se o se o se come come si dice cercheranno una via per mediare voglio vedere voglio vedere ma questo mi sta sulle palli allegri il fatto dei soldi che prende un fracco di soldi e alla fine cosa vediamo sempre merda merda però nonostante tutto siccome io sono buoni vuole vedere adesso che va via così dispiace ma sempre a me allenatori fanno un po un po un po un po tenerezza io so anche pirla come è stato cacciato sari io sari volevo bene ma lo stesso anche allegri la prima volta cacciato via un allenatore vincente che quando ti dà dei consigli perché allegri sarà tutto quello che tutto quello che è ma non è non è un coglione fino 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 proprio all'estremo quando ti dice devi devi cambiare devi cambiare tot giocatori perché sennò non vinci più devi cambiare e tu lo cacci via e tu lo cacci via e io quell'anno lì devo andare guardate devo andare contro ai miei principi non avrei mai mandato via lei avrei mandato via paratici perché paratici già si vedeva che stava combinando dei disastri ma siccome Agnelli non capisce un cazzo si è tenuto il cavallo sbagliato restiamo nell'ambito no su nedver non dico niente perché nedver l'ho nel cuore poi noi noi diciamo di tutti i colori pensiamo che sia stato nedver di qua di là però noi alla fine non siamo dentro e non sappiamo come sono veramente le cose noi facciamo delle ipotesi no però io devo dire che mandi via un allenatore vincente non si manda via ragazzi non si manda via adesso siamo perdere questi questi tre anni questi tre anni sono stati un disastro è una coppetta italia non lo salva non lo salva da dai disastri io parlo di cinque anni precedenti un allenatore vincente non si manda via non si manda via dovevi rifare squadra tutto quanto avremmo potuto andare avanti vincere ancora per anni 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 eravamo avanti tutti dieci anni eravamo avanti tutti invece quello lì e per non seguire consigli per non seguire i consigli di gente che ne capisce di calcio ha voluto fare di testa sua buon queste qui sono cose perché è che ormai l'ho talmente marchiate dentro no che sanguina il cuore quando penso a queste cose qua no perché noi siamo stati una una società che va che ha voluto chiudere un ciclo ha voluto ha voluto chiudere un ciclo comunque bravi tutti io do un voto generale a perin cosa voglio dare perin non ha fatto una parata gli do sei così di stima dai perin attento comunque sei poi gatti bremer e danilo io gli do un 8 bremer monumentale per quando gli quando vi dico che non bremer non si non si deve vendere perché dopo per trovare un centrale ragazzi come bremer la difesa va bene com'è bremer bremer gatti e danilo o rugani va bene così io io farei giocare rugani vanno bene questi tre qua è davanti che non va bene è davanti che devi fare un centrocampo forte per coprire la difesa per far fitto per proteggere la difesa perché la difesa non può fare tutto perché noi abbiamo un'ottima difesa ma abbiamo un centrocampo scarso poi avete visto ieri cambiando nicolussi caviglia con locatelli come cambiano le cose no come cambiano le cose difatti l'ha detto il becca morto dovevo utilizzare nicolussi caviglia di più se n'è accorto adesso ma lui siccome ha sempre quella fissa di far giocare i suoi pupazzi i miretti alexandro hai canato hai canato e tante volte gli ho tirato le orecchie quando avevi trovato la quadra che vincevamo che vincevamo che andava tutto bene tu non dovevi toccare la squadra dovevi lasciare tutto com'era tutto com'era lasciare rugani dove era non metter dentro danilo e alexandro di là o fare i tuoi cambi del cazzo hai sbagliato allegri hai sbagliato hai distrutto un giocattolino che stava andando bene e che eravamo sapete quel filo quel filo sottile eravamo sopra un filo sottile le cose andavano benino dovevi lasciare così invece tu per egoismo hai voluto cambiare tutto e ci siamo giocati gran parte dello scudetto perché si poteva fare di più si poteva fare di più comunque la difesa monumentale gatti bremer danilo 8 tutti quanti il centrocampo 7 io do 7 tutti quanti cambiaso meccani nicolosi caviglia rabbio il inugno do 7 a tutti quanti buon rapio anche tu se avessi giocato tutti gli anni come ieri guardate ragazzi che veramente io penso che ieri se la sono giocata alla morte perché volevano a tutti i costi questo trofeo un po per per dare un senso alla stagione però se questo rabbio fosse stato il rabbio di ieri fosse stato costante negli anni come la partita ieri sarebbe stata tutta un'altra juventus tutta un'altra juventus meccani cosa gli vuoi dire meccani fa sempre il suo cambiaso buon brevissimo il iune ha fatto il suo anche quindi io il centrocampo gli do 7 poi in avanti una mezza nota dolente allora vlaovic do 9 9 perché secondo me bremer e vlaovic i migliori i migliori in assoluto bremer ha vlaovic do 9 due gol uno annullato per stupidità del del coso lì del del fuorigioco lì che anche quelli sono sono una regola da cambiare non puoi annullare un gol così comunque vlaovic 9 e chiesa gli do 6 così per stima ma chiesa non riesce più a incidere ragazzi non riesce più a incidere non si ha fatto il suo ieri dato una mano però poca roba chiesa poca roba vedremo con l'allenatore nuovo con l'allenatore nuovo poi subentrati certi senza voto il di 6 miretti 6 anche tu miretti ma anche anche questo miretti è sfigato però tutti i li riprende sempre traverse pali e questo qua è una sfiga dietro questo ragazzo comunque e poi al beccamorto 288 al beccamorto 28 lo congedo questa stagione con un 8 di coppa in coppa italia perché bene o male bene o male è partita partita perfetta non puoi dirgli un cazzo a lei poi che dicono è perché solo questa qua è tutto merito di ragazzi no a meno no si vince tutti insieme si perde tutti insieme poi c'è qualcuno che ha più colpe e qualcuno che ha meno colpe però si vince tutti insieme ieri non si fanno distinzioni anche l'allenatore 8 se siete degli uomini veri dovete dare a cesare quel che di cesare ieri allegri anche per la sfugliata finale e le palle che ha tirato fuori anzi gli do 9 gli do 9 ad allegri per ieri bene questo volevo dirvi ragazzi sono contento sono contento per i ragazzi soprattutto perché dopo tre anni travagliati ragazzi problemi societari di tutti i tipi fuori dalla cempio almeno una coppetta italia di soddisfazione contro tutti i guffi perché ieri ieri volevano farcela perdere ieri volevano farcela perdere e si vedeva che l'arbitro era pro atalanta su decisioni calci d'angolo destra sinistra era pro atalanta però siamo siamo andati contro tutto e tutti come si suol dire e che è ai guffi che è ai guffi che è ai guffi che è ai guffi che vedevo qualche prescritto che rompeva i coglioni specialmente lì quello lì col capello nero ti è che va a dire solo la juventus fa queste cose lì con il comportamento di allegro ma che cazzo dice che il tuo allenatore lì in zaghi è sempre a metà campo che va a urlare sempre che inveisce contro tutti ma che cazzo dice ma guardati in casa attuali parli vedere un preto sfigato lì mamma mia quel capello nero lì poi i gatti quando ti vedono si toccano i coglioni comunque ricomplimenti ragazzi un bacione a tutti i belli brutti ci vediamo la prossima che parliamo di una cosa interessante parliamo di una cosa interessante ciao ragazzi un bacione da michelone che vi vuole bene e ci vediamo la prossima se no abbiamo un video troppo lungo ok ragazzi ciao fatti bravi